Sulla strada cantonale tra Agnuzzo e Loreto, sulla cantonale tra Grancia e Noranco e sulla superstrada tra Mendrisio e la Dogana del Gaggiolo. A nord delle Alpi la A2 è tuttora chiusa ai mezzi pesanti tra Ergisville Sud e Lucerna Horv in direzione di Lucerna. Sempre sulla A2 tra Lucerna Criens e Ergisville Nord si sono formate lunghe code in direzione del Gottardo. Su questo tratto si circola su una sola corsia. Agli automobilisti diretti in Ticino si consiglia di passare dall'A14 via Zugo e quindi dall'A4 via Svitto. Una notizia infine che riguarda il traffico ferroviario. La tratta tra San Nazaro e Luino è al momento interrotta a causa di un guasto tecnico. Si prevedono ritardi e soppressioni di treni. Oggi è domani. Vieni in passare. C'era una volta. Oggi. Ok. È martedì. Sì. Alessandro Bertoglio. Danny Raussevo. Sì. Alessandro Bertoglio. Sì. Alessandro Bertoglio. Sì. Alessandro Bertoglio.